Diciamo che quest'anno per la prima volta abbiamo fatto una collezione beach, un po' perché è un'esigenza anche di mercato. I giubbotti nella stagione estiva si vendono un po' meno, quindi si vendono più i pezzi piccoli, leggeri. Noi tra l'altro abbiamo anche il DNA perché abbiamo fatto un tema costgar, guardia costiera, che ci appartiene sia per il marchio o per la storia. E direi da quello che ho visto è piaciuta molto, quindi ci auguriamo che da adesso in avanti mettono anche i nostri costumi. Diciamo che come in tutte le cose è importante poi riuscire a portare la propria immagine, il proprio DNA sui prodotti. Poi i prodotti sono tutti abbastanza simili, la differenza la fa come vengono personalizzati nei materiali che tu presenti e come li presenti. E noi lì dicono che siamo abbastanza bravi. I tessuti, la tendenza, noi abbiamo lavorato molto sulla parte stretch, nylon ultralight stretch, neoprene ultralight stretch e poi abbiamo fatto anche un po' di garment dye. Anche perché come dico il clima sono talmente volubili che un giorno fa caldo, un giorno dopo piove, quindi cerchiamo un po' di adattarci anche alle esigenze del clima. Il piumino leggero per me è diventato un four season, nel senso che devi sempre averlo dietro perché cambia improvvisamente la temperatura e ti salva a volte la vita perché quando viene il freddo se sei con un t-shirt. Quindi per noi sono dei capi interessanti che ne vendiamo veramente tanti perché li diamo in diverse versioni, in diversi materiali ed è un business che sta crescendo tantissimo per quello che ci riguarda. Noi intanto due anni fa abbiamo acquisito il 50% di proprietà del marchio, quindi questo ci ha dato la voglia e la forza di investire e di allargare il business. Difatti adesso a novembre apriremo un negozio in Giappone. Diciamo che il passo successivo, una volta fatta una distribuzione mondiale, bisogna pensare al retail che è necessario. Grazie.